Siamo di fronte ad un cambiamento epocale e spirituale, nel senso che noi vegani portiamo avanti qualcosa che sta cambiando il mondo. Addirittura? Assolutamente sì, perché quello che bisogna fare... Senti i buoni contro i cattivi? Quello che bisogna fare è stoppare questo atteggiamento di prevaricazione che l'uomo ha nei confronti... Se vuoi usare un prevaricatore? Beh, essendo ancora un nivero, sì, perché prevarica su degli esseri viventi che non si possono difendere, ma non è l'unico, c'è ancora la legge che ci dice che lo possiamo fare, quindi è qualcosa di legale, secondo me... Come c'è ancora la legge? Ce le vorrebbe cambiare la legge? Assolutamente sì, ma come sono cambiate le leggi nel corso dei secoli? L'uomo ha capito che bestialità aveva fatto, allora si parla della superiorità dell'uomo, l'uomo fa cose meravigliose e cose mostruose, quindi bisogna valutare entrambi gli aspetti. Dobbiamo smettere, con questo atteggiamento prevaricatore, noi siamo tutti bravi a sentirci vittime, e siamo vittime, siamo vittime di un sistema politico, economico, capitalistico mondiale che ci tiene con la testa sotto l'acqua, ci tiene senza fiato. Ma che c'è il capitalismo con la carne? È la stessa cosa, perché noi siamo vittime di un sistema predatorio, ma nello stesso tempo siamo anche carnefici, a nostra volta, di predazione nei confronti di esseri più deboli.